Costa poco? Sì, però ho... SESLASHCOMPARI e bentornati su GIOCHI DI GIORNATA Oggi con il vostro Archdaft, lo avete letto lì in alto, lo avete letto nel titolo andremo insieme a vedere il potenziale di questo giocattolino qui Sì, oggi parliamo del 3DS Sfidiamo nuovamente quella compagnia di cui non farò il nome che non è molto amichevole con noi youtuber quando parliamo di queste console Io già ve l'avevo scritto nei commenti che non ero molto convinto di volerne parlare però con la Wii è andata bene, quindi sfruttiamo anche lui al 100% E sì, il 3DS è il rivale della PS Vita uscito oramai un bel po' di tempo fa è stato sostituita dalla ben nota Switch che spero di poter portare anch'essa presso in questa rubrica perché veramente ho visto cose molto molto interessanti nella community on brew Il vantaggio principale di questo è che costa molto molto di meno sul mercato dell'usato oltretutto ne hanno venduti tantissimi quindi di questi ce ne sono molti di più in giro che di PS Vita per questo motivo qualcuno potrebbe magari preferirlo a una console Sony oltretutto ci sono delle esclusive particolari del 3DS che per qualcuno potrebbero essere vitali per esempio mi viene in mente Pokémon Sole, Smash Bros ci sono veramente tanti giochi molto belli su questa console e ovviamente molti di questi e della versione precedente, il DS sono veramente godibili come si deve secondo me solo qua sopra per via di questo gimmick allungato dei due schermi dico allungato perché ragazzi detto francamente non mi ha mai fatto impazzire il dual screen né nel DS né nel 3DS pochi giochi lo hanno usato come si deve pochissimi che mi interessassero davvero lo usavano come si deve con il tempo è una feature che invecchia abbastanza male perché lo rende solo più giocabile magari su un emulatore per smartphone ma per quanto riguarda altri emulatori sinceramente lascia un po' il tempo che trova come posso da fan di Metal Gear non farvi vedere il porting di Metal Gear Solid 3 presente sul 3DS una console che all'usato si dovrebbe pagare massimo 30 euro a Metal Gear Solid 3 uno dei giochi capolavori secondo me di Kojima dell'epoca Playstation 2 quindi già solo per quello io vi direi prendetevela, giocatevelo ma è un buon porting sul 3DS? si e no i controlli sono quello che sono logicamente tanto si fa magari con i tasti frontali per ovviare la mancanza del secondo analogico certo potreste comprarvi un New 2DS oppure un New 3DS che hanno integrato lo stick analogico però lì comunque aumenta il prezzo e qui stiamo parlando di questo per cui ci limitiamo a questo oltretutto si trova, seppur un po' raro ma non più di tanto un accessorio che aggiunto al 3DS vi dà un secondo analogico quindi tutti i giochi che magari lo sfruttano quella manciata potreste giocarli tranquillamente qui col secondo analogico se per PS Vita forse era più necessario parlare dei giochi presenti sulla console io penso che qui sia molto meno una cosa da fare e andrei oltre perché veramente ragazzi c'è nintendo, tutte le esclusive nintendo per il 3DS e ci sono veramente tantissimi giochi molto molto popolari quindi per non parlare del DS che è giocabilissimo qui sopra grazie a un piccolo ombriu chiamato Twilight Menu che praticamente vi crea un'interfaccia del DSi la faccio semplice per chi magari sta vedendo queste cose per la prima volta quindi magari quelli più esperti saranno già dicendo cringe lo so insomma questa interfaccia vi permette di fondamentalmente giocare con una virtual console a tutti quanti i giochi del DS è inutile che vi dica quanti ce ne sono e soprattutto abbiamo i due schermi e lo stilo quindi li possiamo giocare più che decentemente qui sopra con un format molto vicino all'originale molti speravano di vedere l'emulazione DS su PS Vita qualcosa si è anche mosso ma detto francamente questa rimane la maniera più pratica per giocare i giochi DS e 3DS tuttavia stiamo arrivando al limite di questa console si è stato portato Retro Arch però non ha chissà che performance soprattutto su questa versione ho provato i classici giochi che provo sulla PS Vita quindi Super Nintendo e un Final Burn Alpha con il CPS 1 non sono andato troppo a provare altro e detto francamente le prestazioni lasciano il tempo che trovano forse posso aver sbagliato io perché comunque Retro Arch ha tanti settaggi tuttavia magari se c'è qualcosa che ho tralasciato in questo video i commenti sapete dove sono e me lo potete far sapere lì per quanto riguarda i giochi Ombriu sì Super Mario 64 che da quando è liccato online e diventato in un nuovo Doom si trova tra un po' anche sulla vostra lavastoviglie è stato portato anche qui e devo dire che gira abbastanza bene e vorrei anche ben vedere visto che qui sopra possiamo giocare alla versione quella DS con Wario, Luigi e tante robe nuove tante feature interessanti però c'è anche quella classica portata nativamente sulla console che gira bene e vi permette di giocare a Mario 64 originale del Nintendo 64 senza chissà che cali e comunque con una buona risposta dei controlli per quanto riguarda l'altro gioco che ho citato Doom sì c'è anche Doom è possibile giocare a Doom Doom alla fine gira bene cioè voglio dire ragazzi parliamo di un gioco che gira non lo so veramente anche lui sulle lavastoviglie è stato portato dappertutto il porting di Doom è un classico porting leggero vanilla quindi funziona niente da dire qui, vi basterà inserire i vostri WAD ed è possibile giocare a Doom senza troppi problemi magari ecco è più godibile sulla PS Vita però è difficile fare questo video da parte mia dopo essermi abituato all'emulazione su quella console arrivare qui effettivamente è un downgrade però ovviamente lo paghiamo anche un bel po' di meno quindi c'è poco da lamentarci questo riguarda invece altri giochi giocabili qui sopra ovviamente tramite Tuorazon è possibile anche giocare a tutti i giochi del Game Boy Advance vi basterà inserire un BIOS del Game Boy Advance un po' come si fa sugli emulatori e abbiamo tutti quanti i giochi del Game Boy Advance oltretutto Nintendo ci ha abituato alla Virtual Console quindi abbiamo anche i giochi del Game Boy Color diciamo che per buona parte delle console Nintendo lui fa veramente il suo dovere però tiriamo le somme costa poco? sì però offre secondo me anche poco nel caso voi stiate cercando un device per l'emulazione molto più evoluto molto più seguito dalla community detto francamente per quanto anche lui sia molto seguito vi suggerirei comunque l'alternativa Sony perché è vero che qui abbiamo tutti i giochi 3DS è vero che girano benissimo i giochi del DS possiamo giocare i giochi del GBA bene del Game Boy Color ma alla fine GBA e Game Boy Color girano bene anche su PSP e PS Vita però consiglio soprattutto se volete recuperarvi magari Pokémon Diamante o quei giochi del DS volete recuperarvi anche altri giochi del 3DS che non avete giocato insomma ragazzi lo pagate poco con una SD, micro SD normale senza neanche l'adattatore perché il nostro amico legge le SD grandi e più delle volte ve lo includono un adattatore SD grande al micro SD quindi l'abbiamo sfruttato al 100%? sì, ma voglio concludere questo video però con una nota positiva perché per quello che la paghiamo una di queste cioè è tanta roba è tantissima roba e sono facilissimi da modificare non sono chissà quanto complicati non ci sono firmware, limitazioni e robe del genere degne di nota bene, questo video finisce qui io spero vi sia piaciuto se dovesse essere così lasciatemi like altrimenti dislike seguitemi su Facebook, Instagram, chat e canale Telegram commenti sono qui sotto fatemi sapere la vostra sul 3DS che dire? con questo è veramente tutto Archdart chiude e alla prossima!